Team System Sono contabilità, gestione del personale e fiscalità e molto altro ancora. Una nostra esigenza di stabilità, velocità ed innovazione ci hanno portato fin da subito ad approcciarci a Team System Studio Cloud e a tutti i suoi servizi collaterali, quali la Digital Box e la firma digitale. Il cloud ha certamente aiutato il nostro business. Eravamo in una fase di start-up dove tutti noi avevamo bisogno di lavorare in libertà e sicurezza, soprattutto dal punto di vista software. L'impatto sui nostri clienti è stato immediato e positivamente sconvolgente. Abbiamo dotato tutti i nostri contribuenti forfettari di una piattaforma di fatturazione elettronica. Abbiamo dotato i nostri clienti di applicazioni digitali e abbiamo dimostrato che le loro aziende possono innovarsi dal punto di vista della digitalizzazione e dell'innovazione. Abbiamo cercato di concentrarci su servizi distintivi, quali fattori in cloud, casse in cloud, contabilità in cloud, firma digitale, Digital Box e People App. Team System Studio Cloud ci ha permesso fin da subito di essere molto più agili nell'organizzazione dello studio, dotandoci di uno strumento flessibile e altamente personalizzabile. Il mutare delle esigenze lavorative dello studio va di pari passo a quelle per la tecnologia e la digitalizzazione. La nostra mission è, e rimarrà sempre, Digitali Oggi Competitivi Domani. Team System